Una città è moderna quando offre servizi di mobilità avanzati per i cittadini. Allora, nella prospettiva di realizzare un sistema metropolitano di mobilità come quello che abbiamo finanziato con 100 milioni di euro, abbiamo deciso di cofinanziare le due autostazioni di Botteghelle e del Ponte della Libertà per offrire due punti di intescambio ai cittadini che volessero utilizzare il mezzo pubblico e posare, parcheggiare la propria auto privata. Sono due strutture che nel medio periodo ci daranno l'opportunità di avere un nuovo sistema di mobilità nella città di Reggio.